Ciao a tutti ragazzi e ragazze, il vostro 7 mila anche oggi è tornato e sono con mio fratello Allora, nella scorsa live vi avevo fatto vedere un pezzetto di quella che sarebbe stata una sorpresa Mi raccomando ragazzi per questo video dobbiamo arrivare a 750 milioni di like No, scherzo Vabbè, scherzi a parte Dicevo, nella scorsa live appunto vi fece vedere questa piccola sorpresina e oggi andremo a farne l'unboxing Anche se l'avrete già letto dal titolo Ma ragazzi, oggi come potete vedere abbiamo un box coreano da 30 pacchetti di Pokémon XY 8 Turbo Break Credo si chiami così, sinceramente Sì, sì, si chiami così Perfetto, ho zecco i nomi Allora, vabbè, direi di andare a depurirlo Allora, ho il coltellino perché io ho gli strumenti del mestiere Ok, che io? Minchia raga, c'è 30 porchetti Vi rendete con... ce ne ho uno piegato male Partiremo da questo, mi sa 30 porchetti Allora, 30 pacchetti di carte Coreane sono 5 per busta E... 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 ok Direi di iniziare dal purimo e primo pacchetto Tra l'altro ripetiamo coreane Coreane, ah, avevo anche la forbice Quelle coreane sono più belle Quelle coreane sono disegnate molto meglio, secondo me Anche se in realtà forse i disegni sono uguali A me piace proprio il nome che c'è l'altro poco Allora, cicciamo fuori la carta So che l'ultima è... È in fondo, quindi non dovremmo avere problemi Allora... come si chiamava questo? Dai! Floet Poi Syndaquil Zorua Noctowl E... 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 C'è una rara che è Vivillon Ah, vedi, sì, è brillante No, no, è rara normale Si vede che sbrilla Che sbrilla Allora, le mettiamo qua con le normali Secondo pacchetto, ragazzi Subito, non perdiamo... Te, 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 te Non perdiamo il bidet, per favore, ragazzi Oh, questo non ce l'ha Andrea Allora, Vanillite Ce l'ho Poi Sangryu Poi Simi Sage Poi Oddio BM e... 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 No, un uncommon Legame mentale con Mewtwo Ok Non sta andando bene Terzo pacchetto, via ragazzi Via, 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 via Andare, via Mi ho tagliato le carte, devo vedere Che brutto è un GMB Ma poverini Vabbè, chi se ne ricorda? Io Ok, ok io Allora Di nuovo Sindaquil Poi Di nuovo Zorwa Uttutut Mi ricordo mai come si chiama lei E, 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 e Un uncommon Pinzir Bene Andiamo avanti Ne abbiamo altri 27 Sì, è brutta come cosa, ragazzi Dai, il menù degli ex la vorrei trovare Pampur Pampur E, 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 e che schifo Noctowl Però, basta Allora, apriamo un altro Subito Subito Proprio dobbiamo aprire Subito Buono, apriamo axiun, tipo drago, magnamite Poi, remorade, cacturne, e, 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 e che due palle però cos'è sta roba? E il sasso E la pietra lieve La pietra lieve Ah già è vero, è pietra lieve E il sasso, molto bene Facciamo qui il quinto pacchetto Buu 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 Un oggetto totale Ippocromo Pietra lieve se data a un pokemon lo fa dimagrire Allora, remorade Dutore duo Vanillish Sandslash E, 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 e Ussaring E ragazzi ho Gelato da due Se non esce neanche un ex non lo faccio uscire sto video io Ho una torta Cioè, le turbo son belle però le yes Allora, allora Andiamo avanti Teddy Orso Spiupa Eh? Sanstryu Regale mentale con Mewtwo E Mirgo Andiamo Che schifo Apriamo un'altra I pacchetti non sono finiti Le sorprese continuano Ho tagliato le carte No scherzo Si sente la corea It smells like Korea Allora Wobat Vanillish Zorua Noctowl E, 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 e che due Bacchetti E Hunter Non ce l'avevamo Mi sa Hunter Va bene, è bello Beh ragazzi Io punto anche ad averle tutte Visto che sono 59 in questo box, in totale a parte le fuoriserie, punto ad avere tutto un album completo allora, prossimo pacchetto abbiamo Simi Sage Wubat, di nuovo Pampure vabbè, oh, aspetta è una rara, di nuovo lei e Gengar rara, che figata grande, grande Gengar grande Gengar, prossimo pacchetto devi assaporare il pacchetto, devi essere il tuo pacchetto ci sono diventato un pacchetto dentro c'è la tour allora, abbiamo Valorite, Sandlue Simi Sage, Gremble e un uncommon Pinsile, vai, non ce l'avevo Pinsile, ho tre di Pinsile ho tre io non ho mai culo con queste cose, casomai non dovessi trovare niente, mi comprerai un'altra box principalmente sono io dove le culo eh, vabbè Cindaquill Zorla Otrut Gremble e legame mentale con Grayly legame mentale con Grayly vabbè, ho un mega Grayly però esatto la mega l'abbiamo trovata ok, prossimo cappetto prima addirittura due Elgin, mince bella però questa immagine Elgin, poi Snabo Killava, molto bene manca solo Typhlosion Hunter e Zoroark la Rark è figata ma che bella è bella pose da breakdance si, ci manca solo la Deb prossimo pacchetto prossimo pacchetto pacchetto no 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 ok quanti pacchetti sprecati eh dai allora, il pacchetto è uguale a prima Elgin no, Vanillite Floette Città Parallela sì e Ursaring Città Parallela è bella allora, raga, mancano non è male un po' di pacchetti 18 pacchetti mancano un numero indeterminato 18 pacchetti in teoria almeno due ex le vorrei trovare alla prossima e li mosero in 17 e la manca allora che ci sarà mai qui ci sarà Pikachu che non c'è in questo box allora F possible Zwobat Utrut Toward Flaug and e e e e character non as Both le 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 chiss che l'assimo pack li ci perdiamoci di banano. Allora, Magnemite, che tra l'altro è l'unico, non c'è Magneton per fortuna in questa espansione. No, è vero. Allora, Remorade, Chespin, mi è scivolata la mano, Sandlash e Turbo Zoro. Che bello, Turbo Zoro. Che figata, madonna raga, Turbo Zoro. La madonna figata. La mettiamo noi, la mettiamo qua. Tra l'altro, porca miseria, dov'è? Le dovevo mettere qua alle rare. Dov'è Zoro? E' morto Zoro. Eccolo qua. E' là Zoro. Ok. Dopo questo andiamo avanti. Era più o meno a metà del box, quindi ragazzi se andate a comprare le carte in un box, scegliete i pacchetti che sono a metà. E ne rimasero 15. 15? Ok. Allora, siamo a metà veramente. Ora 14. Allora, abbiamo Sim, Yippur, Ax, io... be em let's go allora abbiamo anzi abbagiamo abbiamo Poi Gastly, che forse non avevamo, un altro Axio, un'altra lei, e un'altra persona, Pincil, Pincil Uncomore Il Zoro Art Turbo è una bella acquista Infatti sono contentissimo, il Zoro Zubo Se trovi Turbo Riders... Oh oh oh, non ce l'avevo! Magnemite! Davvero? Sindaquil Chespin Ah, cazzo BM e e e e Uh, Mewtwo EX! Porca miseria Mewtwo X Madonna ragazzi, Mewtwo EX Grandissimo, madonna Mewtwo EX Che bella che è ragazzi Allora, la nostra leva 120 Ok, proseguiamo, la nostra leva 120 è un po' debolice, devo dire, nel TGC Pokémon TGC Ah, quello che è il computer Ok, andiamo avanti Vanilli Shish Zorua Teddy Lorsa Energia Arcobaleno Vanillux Uncommon, Vanillux non ce l'avevo però Aspetta, 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 hai trovato Mewtwo Ho trovato Mewtwo? Ah si, ho trovato Mewtwo prima Allora Flavvole Bebe Gastri Mi sembra il pacchetto di prima Pansage Forse non ce l'avevamo Pinsir E 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 Noctowl Uncommon Andiamo avanti E Noctowl Allora, ma come la, come la, come la Vinciglio Che accumulamento di pacchetti Allora, e beh Sengdryu Poi Simi Sage Wubat Florghess E e e Tiflusion Lancome Che figata No, è rara Mi che bello Che bellucicosa Che figata Tiflusion c'è una mossa bella No, ma è bellissima È bellissima, ragazzi Poi brilla proprio E dico, è bellissima E dico, è bellissima Allora, quattro rare Una IEX Una Turbo Mancano Uno, due, tre Quattro, cinque, sei Sette, otto, nove Dieci pacchetti E li masero in dieci Ne abbiamo aperti solo venti, ragazzi Andiamo con il veveventi mesi Abbiamo Vanilli shish Chi lava, giusto Chi lava Scatter bag Il sasso E e e E cattone Meno male che abbiamo anche cacnia Così Così lo diciamo Allora Di nuovo Ripartiamo Snoob Quilava Vanillite Smirgol E e e e E e La IEX La IEX La IEX La IEX Full art Shish in the world Because I am Haunter IEX Io voglio trovare Mega Pikachu Holo IEX Full art Banana Team Skull Hydro Magma Sentryu Remoraid Doododuo Team Barana Eh vabbè C'è una rara però Forse è Gleli addirittura No Octillery La rara è Octillery Non vedi la somiglia No no È ugualissimo È ugualissimo Davvero Grazie Ugualissimo Di poco Non ho tagliato una carta Sì Allora Shubbet Ututet Elgim Brutto Urseling E e e e Essensless Uncomo Che è sotto È sotto un fungo Sì 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 Un riccio Sotto un albero Sotto un fungo Un sacco di patate Un gnocco Riccio 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 Allora Ok Mancano pochi pacchetti Io vorrei trovare anche un qualcosina in più Però sono soddisfatto lo stesso per ora Pampur Tè di Ursa Spiupa Bim E città parallela Va bene E sono due città parallele Benissimo Ok Sarebbe grandissimo trovare una fuoriserie ragazzi Per chi non lo sapesse Praticamente Le fuoriserie Magari sto sbagliando anch'io Sono quelle che vanno appunto oltre la serie Cioè queste sono 59 totali Ce ne sono altre 5 o 6 Che vanno oltre Dalla 60 alla 65 se non sbaglio Axiu Caccanea Pampur Noctowl E e e e e E un altro Vivillon raro Sei così Vivillon anche andrea Trovate dopo Prossimo Prossimo Stiamo finendo Questo è il quarto pacchetto che manca E rimasero in tre All'ultimo pacchetto ci sarà qualcosa Allora Tuttut Simisage Wubat Fraxur E e e e e e e e e l'energia al cobalino in common Sì Sì Indaquillo Chespin Simipur Che forse non avevo Chilava Vanillie Dopo di questo Lux E e e e e Grambola in common Ultimi due pacchetti della serata Quello venuto male lo teniamo per ultimo E perché è quello bello Tipo il bruttono acroccolo Che può diventare il cigno Speriamo di non trovare il cigno Quello diventa una bella torba Allora Elgiem Ma com'è? Che è sta roba? È una fata È una fata Snubbull Chilava Chilava Biem E 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 che è raro E che è sugar Che figata Nooo Che figata Xerges Grazie E vai un'altra Un cervo al cobalino Un cervo al cobalino Pacchetto venuto male ragazzi È l'ultimo pacchetto della serata Cosa che lo tocco Ma bravo Ora non trovo niente Neanche le carte trovo dentro Ragazzi io Se vi piace questo video Mi compro un altro paio di box E li apro Cioè Se vi piace la sera Ultimate 500 500 carte della serata Ultima 500 Ragazzi 89.623 like Ok? Ok Più uno Più uno Sì Elgiem Perché? Vanillite Floet Energia al cobaleno Non c'è niente Nah Peccato Vediamo il bottino di oggi Il bottino di oggi A parte Quella carina Che è città parallela Che mi piace Allora Il bottino di oggi È stato Praticamente Lo ripetiamo Uno Cernes Raro Molto carino Poi Un cervo Un vibilion raro Carino anche questo Octillery Raro Poi Che carino Che tu è un octillery Non mi piace Typhlosion Raro È un porco Poi Zoro Alcararo Gengar Raro E questo è fantastico Ragazzi E poi Un altro vibilion Raro Dopodiché New 2 EX Molto bello Davvero Peccato non sia la fuoriserie Mi sa No infatti Non è la fuoriserie E per finire Direi la carta migliore Che abbiamo trovato Nella Nel box Ragazzi La carta simbolo Praticamente Zoro Turbo Quindi Questo È stato Un pack opening Veramente Fantastico Io ragazzi Zì Ragazzi Zì Abbiamo trovato Di vito Se questo video Vi è piaciuto A lasciare un like Se volete A commentare sotto questo video Se ne volete altri A condividerlo Dove volete Se condividi il video Sei una bravissima persona Se non lo condividi Ti aspettano le fiamme Dell'inferno LGM arriverà a casa tua E ti sconvolgerà Con la sua bruttezza E io non vorrei questo Bene Direi che per ora Da 79000 Suo fratello è tutto Ciao ragazzi